A Palermo e Provincia, Forza Italia in fermento a seguito delle recenti nomine nella gestione del partito. I bandoli della matassa, Dario Piparov. È stato un percorso difficile e facile. È caos in Forza Italia dopo il riordino dei quadri di partito. Il coordinatore regionale Vincenzo Gibino ha ufficializzato le nomine palermitane, scatenando le proteste dell'area di PID, con il deputato nazionale Francesco Saverio Romano in testa. Vincenzo Figuccia e Giulio Tantillo sono i designati alle cariche, rispettivamente di coordinatore provinciale e coordinatore cittadino di Palermo, alle quali si somma il programma di restauro regionale con il partito di Siracusa, Trapani e Caltanissetta, interessato da cambiamenti imminenti. Ma quello che fa scattare la polemica, tanto da stendere una lunga lettera di disapprovazione, assume una fisionomia e un nome preciso. Gianfranco, Micicchè, ex sottosegretario, ex numero uno di Grande Sud, ex dissidente berlusconiano, poi tornato alla base dopo le regionali. E proprio alle regionali la candidatura di Micicchè spacco il centrodestra, determinando la vittoria di Crocetta, che ancora oggi gli viene imputata. E proprio la lettera viene firmata e sottoscritta dall'area PID, con il sacenze Toto Cordaro in testa. Il punto non riguarda solo Micicchè, ma il metodo di scelta delle nomine, che secondo PID sarebbe avvenuto in maniera del tutto autoritaria. Più precisamente scaturita dall'incontro a Sant'Ambrogio tra Gibino e Micicchè. E qui i dissidenti sottolineano l'incisività di quest'ultimo sul fallimento delle regionali. Insomma, scelte catapultate dall'alto, senza concertazione o metodi di condivisione tra le parti. Il primo campanello arrivava da Twitter, con Romano che ironicamente lanciava una stoccata all'asse Micicchè-Gibino, scrivendo, staranno sicuramente discutendo dei problemi della crisi economica e occupazionale. E l'ex ministro ne ha per tutti, vertici inclusi, sottolineando la sconfitta in Emilia-Romagna e Calabria, ma parlando addirittura di disastro di Forza Italia. Quindi si deve cambiare metodo e anzitutto azzerare le nuove nomine. Sembra quasi un out-out, con la coesione del partito ormai ridotta a una fibra di lana. E le reazioni alla reazione sono arrivate, con il capogruppo a Lars, Marco Falcone, che giudica inopportune le proteste, affermando che da chi chiede il rispetto di regole ci si aspetta anche la capacità di osservarle. Ancor più duro uno dei diretti interessati, cioè il nuovo coordinatore provinciale di Palermo, Vincenzo Figuccia, che dice di non scorgere ragionevolezza nelle parole di Romano e dei suoi amici, aggiungendo un interrogativo che lascia scorgere una scissione prossima. Come possono militanti di un altro partito, PID, Cantiere Popolare, contestare le nomine di Forza Italia? Siamo alla follia. Grazie.